A Riccione, che il 19 ottobre festeggia 99 anni dalla sua nascita, sarà un compleanno in musica. Musica come linguaggio capace di parlare a tutti, con declinazioni diverse. Gli eventi ad ingresso gratuito saranno nel fine settimana del 23 e 24 ottobre. Il sabato pomeriggio, con un contest, è dedicato ai giovani artisti del territorio in Piazzale Ceccarini, in collaborazione con la musicantiere, gioca musica e istituto musicale. Domenica sera, alla Sala Concordia del Palacongressi, si riempirà delle note del premio Oscar Nicola Piovani, con il concerto La Musica è Pericolosa. È un compleanno importantissimo, perché è il meno uno al centenario, quindi è il primo grande evento che ci porterà a fare un anno di festeggiamento. Sarà un momento di ripartenza un po' per tutto, perché si torna un po' alla normalità. Il 23 sarà prettamente per i nostri giovani. La musica permette loro anche di esprimere qualcosa che alle volte a voce non è così facile, quindi uno stato d'animo, un sentimento. Sarà un momento anche, in modo particolare, per i giovani per poter dedicare anche qualcosa alla loro città, in occasione proprio del compleanno. Ci regaliamo il concerto di Nicola Piovani, che credo veramente mantenga alta la tradizione dei nostri concerti. Ricordo solo gli ultimi, quelli di Bosso, di Allevi, piuttosto che personaggi come Gino Paoli. È un nome conosciuto in tutto il mondo e così apriamo veramente ufficialmente il nostro anno del centenario, che ci piace chiamare il meno uno. Dopo il compleanno partiranno una serie di appuntamenti che apriranno le celebrazioni del centenario. Siamo romagnoli, quindi ricionese comunque non festeggia il compleanno, ma festeggia tutto l'anno. E quindi sicuramente il centenario l'abbiamo pensato come una grande festa che dure davvero un anno intero. Una data successiva, quella del compleanno, e che vedrà un momento molto importante per la città di Riccione tutta, sarà proprio il conferimento l'8 dicembre del San Martino d'Oro. Questo premio che Riccione meritava già da tempo e da anni e che abbiamo istituito grazie proprio alla scusa, fra virgolette, del centenario.